Il sindaco di Arezzo e alcuni componenti della giunta comunale ha confronto con i cittadini di Policiano. Dopo gli innumerevoli furti in abitazione, i casi di danneggiamento del cimitero del paese e gli incidenti mortali lungo la regionale 71, gli abitanti si sono ritrovati in mercoledì scorso in un incontro dal titolo Adesso Basta. Ne è nato un documento all'interno del quale ci sono svariate richieste nei confronti dell'amministrazione comunale sulle principali problematiche. Poca illuminazione e conseguentemente poca sicurezza lungo la cosiddetta strada killer regionale 71, innumerevoli quasi giornalieri furti in abitazione e danneggiamenti incomprensibili alle tombe dei cari estinti che riposano nel cimitero del paese. Qui pare che siano già stati avviati i lavori per installare un cancello automatico. Mercoledì prossimo 29 gennaio è in calendario una nuova riunione in locali della Polisportiva Policiano. Stavolta però i cittadini hanno incassato il sì dell'amministrazione comunale. Salvo impegni dell'ultima ora sarà presente il sindaco di Arezzo Giuseppe Fanfani e gli assessori competenti.